E' internazionalmente considerato come uno dei massimi studiosi del Rinascimento e di Giordano Bruno. Di lui il filosofo francese del Pierre Hadot, membro del Collegio di Francia, ha scritto Nuccio Ordine, ben nota ai lettori per i suoi eccellenti lavori su Giordano Bruno, e' anche uno dei migliori conoscitori attuali del migliere sociale, artistico, letterario e spirituale dell'età del Rinascimento e dell'inizio dell'età moderna. Scrittore di tanti saggi, uno in particolare che tutti voi conoscete, l'utilità dell'inutile, definito manifesto di una cultura necessaria. L'utilità dell'inutile di Nuccio Ordine è un manifesto prezioso che dimostra come in una società in cui viene ritenuto utile solo ciò che produce profitto, non ci si rende conto che tutti quei saperi ritenuti inutili, perché non producono profitto, sono fondamentali per l'umanità. Credo che, professore Ordine, che ringrazio personalmente, ringrazio a nome di tutta la Guille Scuola, sia già pronto, anche perché ha tralasciato i suoi numerosi impegni e viene qui dalla Grecia, andrà subito dopo in Spagna. Per questo lo ringraziamo per aver trovato uno spazio per la Guille Scuola. Non ho più parole, Nuccio Ordine, non c'è bisogno di presentarli ulteriormente. Ecco a voi, Nuccio Ordine. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie al segretario generale Giuseppe D'Aprile per l'invito e grazie a tutti i membri della Guille Scuola. Ecco, per me oggi è una preziosa occasione parlare a una platea di colleghi che in prima linea nella scuola lavorano per cercare di formare gli studenti, in una scuola che, come vedremo, qualcuno lo ha già ricordato negli interventi precedenti, ma lo aveva ricordato anche il segretario generale nella sua introduzione, una scuola che va purtroppo in una direzione completamente opposta di come dovrebbe andare l'istruzione. Io vorrei partire dalla citazione di un classico. Ritengo che quando uno insegna la prima cosa che deve fare un buon professore non è parlare lui, ma far parlare i classici, perché hanno molte cose più intelligenti da dire. E vorrei partire da un classico per mostrare che i classici non si leggono per superare un esame, i classici non si leggono per prendere una laurea o un diploma, i classici si leggono perché innanzitutto ci insegnano a vivere, ci insegnano a capire il nostro presente. Ora, per mostrare la forza profetica dei classici, vorrei partire da un testo straordinario che veramente consiglierei a tutti i colleghi di leggere, un testo che mostra la lungimiranza, come dicevo prima, il valore profetico della letteratura. Parlo di tempi difficili di Charles Dickens. Siamo nel 1854. Charles Dickens ci fa vedere una città industriale, Cocktown, dove quello che conta è la filosofia dell'utile. Contano i fatti, conta la produzione, conta il profitto e la scuola deve piegarsi ai fatti, alla produzione e al profitto. Gli alunni vengono considerati dal pedagogo che gestisce la scuola, cito, piccoli recipienti da riempire di fatti. Citazione. Fatti, fatti, fatti ovunque nell'aspetto materiale della città, fatti, fatti, fatti ovunque in quello spirituale. La scuola era solo fatti, la scuola di disegno era solo fatti, le relazioni fra padroni e operai erano solo fatti e tutte le cose erano fatti tra l'ospedale dove si nasceva e il cimitero. E ciò che non si poteva tradurre in cifre o che non si poteva acquistare più a buon mercato o vendere al prezzo più alto non esisteva e non avrebbe mai dovuto esistere nei secoli dei secoli. Amen. E benissimo, questa citazione non ha bisogno di commento. Perché non ha bisogno di commento? Perché già capiamo quello che sta accadendo oggi nella nostra realtà. Ma vorrei dire di più. L'educazione dei giovani a Cocktown, in questa città industriale, che prefigura il nostro mondo neoliberista, è affidata a un banchiere. Guardate, non è un caso che sia un banchiere. Sapete come si chiama il banchiere di tempi difficili che finanzia la scuola? Si chiama Banderby. In inglese Bander significa delinguente, criminale. E quindi, come dire, Dickens in maniera chiara ci fa capire le cose. Sapete come si chiama il pedagogo, il preside, tra virgolette, della scuola? Si chiama Grad Grand. In inglese, to grind significa macinare e opprimere e grade significa misura e mania del misurare. Che sono proprio le cose che affliggono oggi la nostra scuola e la nostra società. Grad Green viene presentato, cito, con una riga, una bilancia e la tavola pitagorica sempre in tasca, pronto a misurare e appesare qualunque particella della natura umana e a dirvi esattamente a quanto ammonta. Per lui l'educazione e la vita si riducono a pura questione di cifre, a un puro calcolo di matematica elementare. Io penso che sia impressionante questa descrizione che ci propone Dickens della scuola. Il pedagogo è nemico dell'immaginazione, il preside di questa scuola, è nemico dei sentimenti. C'è una bambina figlia di attori di un circo che disegna un cavallo con le ali e il preside dice ma che disegni? I cavalli non hanno le ali, tu devi attenerti alla realtà, senza sapere che quando si uccide la fantasia, quando si uccide l'immaginazione, si uccide la curiositas dei ragazzi che è la forma principale per formarli. Nella visione di Dickens e di questa scuola fondata da un banchiere e da un pedagogo asservito al banchiere, i ragazzi non devono avere sentimenti, non devono avere fantasie e curiosità, devono solo pensare all'utile, alla professione, al denaro, al lavoro, alla produttività. Oggi grazie al neoliberismo imperante la profetica descrizione di Dickens è diventata una realtà. Da molti anni, e questo purtroppo non si sa nel paese, bisognerebbe farlo sapere a tutti i colleghi che insegnano nelle scuole, da molti anni i parametri dell'insegnamento sono condizionati da agenzie trasnazionali. Sapete quali sono le agenzie? La Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico, l'Ocse, loro indicano i criteri per valutare l'apprendimento, loro offrono i parametri per fare una radiografia della scuola in tutti i paesi e nelle diverse formazioni. L'efficienza dell'istruzione non si misura più come un tempo sulle conoscenze che un professore trasferiva ai suoi studenti, no, si misura sulle competenze, questa parola chiave che poi traduce fatti, fatti, fatti del Dickens che abbiamo sentito, che gli allievi dovranno acquisire in vista della loro futura immissione nel mercato del lavoro. Questo è il risultato. Ora, per dirlo in una maniera più chiara e più, come dire, diretta, lo scopo oggi della scuola, dell'educazione, non è più quello di formare cittadini colti. Noi venivamo da una scuola dove la preoccupazione principale era formare cittadini colti, soprattutto, donne, uomini liberi, capaci di pensare con un pensiero critico, no. Oggi il compito principale dell'istruzione, ma non in Italia, poi parlerò di questo, nel mondo intero, grazie a queste banche e a queste agenzie legate al commercio, è quello di addestrare professionisti in grado di adattarsi passivamente alle richieste della produzione globale. Noi stiamo formando e stiamo dando vita ad una pedagogia mercantile i cui scopi sono venuti allo scoperto. Guardate, voglio darvi un esempio, un esempio terrificante. Io ho scritto un articolo sul Corriere della Sera per protestare contro questa cosa. Test invalsi, 2018, somministrati a bambini tra 7 e 10 anni. Sono test nazionali, come sapete. Cosa hanno chiesto a bambini tra 7 e 10 anni? Prima domanda. Avrò sempre abbastanza soldi per vivere? Seconda domanda. Riuscirò a comprare con questi soldi le cose che voglio? Ecco, per me queste due domande sono un crimine della pedagogia. Un crimine della pedagogia. Se io fossi stato una persona con un'autorità avrei inviato i carabinieri alle 5 di mattina ad arrestare questi funzionari come si fa con i criminali, perché è la stessa cosa, perché si corrompono i giovani in questa maniera. Ma mi voglio soffermare sui parametri dell'invalsi. Già anche il segretario generale l'ho ricordato nella sua introduzione. Se in una scuola di Treviso un professore fa capire a 10 studenti che chiamare un ministro della Repubblica che alla pelle nera scimmia è una cosa indegna di un essere umano. Questa cosa qui, i test invalsi, non la misurano ed è una delle missioni fondamentali della scuola, ma non viene misurata. Se in Calabria o in Sicilia un professore fa capire che una persona che spaccia la droga, che uccide la gente, che mette le tangenti, che corrompe, non è un uomo d'onore ma è un delinquente comune. Queste cose, i test invalsi, non le misurano. Se a Latina un professore fa capire ai suoi studenti che imbrattare un cimitero ebraico con scritte offensive e antisemitiche significa essere una persona indegna di vivere in una comunità civile. Queste cose, i test invalsi, non le misurano. Ebbene, lo scopo della scuola e dell'università non è quello di sfornare come si vuole oggi potenziali imprenditori e consumatori. Perché questa è la pedagogia mercantile di cui sto parlando. I nostri studenti devono diventare dei futuri imprenditori e dei futuri consumatori passivi e acritici. no. Riflettiamo un minuto sul linguaggio. Sapete, il linguaggio non è mai neutro. Se io uso delle parole, queste parole significano qualcosa. Ebbene, sapete quali sono le prime due parole che uno studente che finisce le scuole superiori e si iscrive all'università proprio in questi giorni, frequentando l'università? Le prime due parole che uno studente impara sono crediti e debiti. Com'è possibile che dentro le istituzioni noi utilizziamo un lessico legato al mondo dell'economia in maniera passiva, come se noi fossimo un appendice di questo mondo? E vorrei dire due parole. I presidi non si chiamano più presidi. Quando io andavo a scuola, i presidi erano dei professori a cui veniva chiesto di controllare i propri colleghi, di seguire la didattica. Io mi ricordo che i presidi entravano nelle classi e ogni tanto parlavano, ci parlavano, ci leggevano una poesia, ci spiegavano qualcosa anche di scienza, se erano presidi che avevano competenze scientifiche. Oggi il preside è un dirigente scolastico, lo ricordava un preside che ha parlato prima. E cosa gli chiedono di fare? Di andare alle riunioni per occuparsi della sicurezza, per misurare i metri dei banchi, per vedere se la carta igienica è nel bagno, per occuparsi del personale. Ma cosa c'entrano i presidi professori con questo tipo di mestiere, che è un mestiere menageriale che potrebbe svolgere una persona che non ha studiato per insegnare a scuola? Facciamo fare ai presidi quello che i presidi dovrebbero fare, cioè una guida culturale, una guida didattica all'interno della struttura e non fargli perdere tempo. Ebbene applicare alla scuola e all'università la logica dell'impresa produce delle catastrofi incredibili. Io potrei stare giorni qui con voi a farvi l'elenco di tutte le catastrofe, però ho un tempo da rispettare, vi farò un esempio per farvi capire quello che succede. Che succede in un'impresa? In un'impresa se un ramo dell'impresa è improduttivo, cosa fa? Lo si taglia. Allora applichiamo questa regola come si sta applicando purtroppo nel mondo dell'insegnamento. Applichiamo questa regola alle lingue antiche, al greco e al latino. Perché? Voi sapete che ci sono delle lingue, il sanscrito, il greco e il latino che sono delle lingue antiche fondamentali. Allora immaginiamo questo scenario. C'è un professore di sanscrito e due studenti. Il consiglio di amministrazione di un'università dirà noi non possiamo permetterci il lusso di pagare un professore per due studenti di sanscrito. Quindi tagliamo il sanscrito. Poi a scuola avremo un professore di greco e cinque studenti. Ti diranno non possiamo permetterci il lusso di pagare un professore per cinque studenti. Tagliamo il greco. Lo stesso discorso sarà per il latino. E allora uno dice vabbè ma che ci importa se si taglia il sanscrito, il greco e il latino? A cosa servono? Ecco la domanda di oggi. A cosa serve? La più bella risposta a questa domanda sapete che gli ha dato? L'ha data Aristotele. Quando gli chiedono a cosa serve la filosofia? Aristotele dice la filosofia non serve perché la filosofia non è servile. La filosofia insegna essere donne e uomini liberi e quindi non c'entra niente col senso del servile e del servizio. Ebbene che succede se noi tagliamo con la logica dell'impresa le discipline che non sono tra virgolette produttive. Noi creiamo una catastrofe non per il futuro della scuola solo ma per il futuro della democrazia, per il futuro della società. E allora uno dice cosa c'entra il greco e il latino, la filologia, la paleografia con il futuro della democrazia? Ve lo spiego in due parole. C'è un esempio che io faccio sempre ai miei studenti. Voi sapete che ci fu la famosa donazione di Costantino nel 314 donata a Papa Silvestro I. Con questa donazione la giurisdizione civile su Roma, sull'Italia e sull'Occidente veniva riconosciuto alla Chiesa, veniva riconosciuto il potere imperiale del Papa, veniva riconosciuto al Vescovo di Roma il Principatum, cioè la capacità di essere il primo di tutti i patriarchi delle varie Chiese. Nel 1440 un grande umanista, un grande filologo Lorenzo Valla studia il documento e dimostra che questo documento è un falso. Ma come lo dimostra? Lo dimostra con l'arte, con la scienza della filologia. Confronta il documento e scopre che in questo documento della donazione di Costantino c'erano delle parole, dei barbarismi che non potevano essere possibili ancora nel 314, che sono venute fuori dopo. E allora la Chiesa subito reagisce e mette all'indice dei libri proibiti il libro di Lorenzo Valla. Ma la filologia, la capacità di comprendere e di studiare queste cose è servita alla democrazia, è servita alla storia, è servita a farci capire gli imbrogli e le fake news che circolano e che sono costruite dagli imperialismi in maniera fraudolenta. Ebbene, eliminare le lingue del passato significa, come dire, creare un vuoto e una rottura con la memoria. Perché? Se noi non insegneremo più il sanscrito, il latino e il greco, perché se io non insegno e chiudo le discipline, nessuno le imparerà più. Quando saranno morti gli ultimi conoscitori del greco, gli ultimi conoscitori del latino, gli ultimi conoscitori del sanscrito, nel mondo non ci sarà mai più un essere umano in grado di leggere un documento del passato, in grado di leggere un'epigrafe romana, in grado di capire che cosa c'era prima. Ebbene, il nostro mondo è un mondo che considera solo il futuro, la cosa importante, ma non capisce che se noi uccidiamo il rapporto con la memoria, noi uccideremo la possibilità di capire il presente e di prevedere il futuro. Ebbene, se noi tagliamo con la memoria, se noi, perché una volta che non avremo più queste cose, a cosa serviranno le biblioteche, gli archivi? Non serviranno a niente. Se uno, non ci saranno più paleografi in grado di leggere i documenti, se non ci saranno latinisti in grado di capire gli scavi archeologici, noi saremo, come dire, completamente immersi da un'amnesia totale, quindi non sapremo più niente del passato, saremo degli ignoranti. E quando noi uccidiamo il passato, stiamo uccidendo il nostro futuro. Ebbene, un altro effetto negativo dell'aziendalismo è quello della rapidità. Cioè, adesso, il mito della nostra società tecnologica, più è rapido, meglio è. Mi diceva qualche collega di scuola, miei alunni, che c'erano delle prove invalsi che si facevano con i cronometri nella risposta. No, un'idiozia totale, un'idiozia totale. Cioè, la rapidità che è un valore, come dire, oggi, che è un mito del neoliberismo, è una grandissima menzogna. Non è vero che per imparare, per coltivare relazioni umane, per riflettere e capire, bisogna essere rapidi. Al contrario, c'è bisogno di lentezza. La scuola, l'università dovrebbe essere il luogo dove noi tessiamo l'elogio della lentezza. Dove noi critichiamo questa follia che si sta spargendo nel mondo, dove tutto è più veloce. Un uomo geniale, Petrini, ha inventato lo slogan slow food, perché bisognava mangiare nei McDonald's, secondo l'ideologia anglosassone. Veloce e subito. No, bisogna mangiare lentamente, perché mangiare è un'arte. Mangiare fa parte della cultura. Ebbene, la scuola dovrebbe andare, ci dovrebbe essere uno slow learning, cioè un apprendimento che passa attraverso un tempo che si dà ai professori che insegnano e agli studenti che stanno dall'altra parte per imparare. Ebbene, Nietzsche, grandissimo filosofo, pubblica un libro, Aurora, una raccolta di aforismi. Lo pubblica nel 1881, poi esce la seconda edizione nel 1886 e dice avrei dovuto scrivere una prefazione per l'edizione dell'81, ma non ho avuto il tempo. Ho aspettato la seconda edizione, l'ho scritta 5 anni dopo. Perché? Perché non bisogna avere fretta nelle cose che facciamo. La fretta non ci aiuta a capire, la fretta non ci aiuta a riflettere. Sentite quanto è bella questa riflessione. Filologia, infatti, è quella onorevole arte che esige dal suo cultore soprattutto una cosa. Trarsi da parte, lasciarsi tempo, divenire silenzioso, divenire lento, essendo un'arte e una perizze di orafi della parola. Che bellissima frase, orafi della parola. In un Parlamento dove la lingua viene mortificata tutti i giorni, tutti i giorni, avere delle persone che siano orafi della parola, che scolpiscono le parole, che le rendono preziose. Noi abbiamo invece persone che le parole le rovinano, le storpiano, le riducono a significati che sono contrari a quelle che le parole veramente vorrebbero dire. Che deve compiere un finissimo attento lavoro e non raggiunge nulla se non lo raggiunge lento. E dice, dovrebbe essere una lettura che dovremmo indirizzare a quei ministri che hanno voluto la follia di ridurre da 5 a 4 anni le scuole superiori. Io avrei messo un anno in più nei licei, non da 5 a 6 anni. Perché ridurre a 4 anni con questa idea che la velocità per l'immissione del mondo del mercato, che i polli di batteria sono già pronti per essere venduti, è una maniera sbagliata che uccide il sapere e la conoscenza. Chi insegna nell'università e chi insegna nei licei sa benissimo le difficoltà che incontriamo. I licei sono diventati delle scuole medie, delle università, dei licei. Tutto il livello della società si sta abbassando verso il basso, sta andando in una maniera verso un declino. Ebbene, io direi, mettiamo un anno in più agli studenti. I licei anziché farlo durare 5, lo facciamo durare 6, così imparano di più. No, invece bisogna tutto accelerare. Come la riforma del 3 più 2. C'è un bellissimo libro, 3 più 2 uguale 0, che praticamente è un libro dove molti professori universitari hanno parlato di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, di come siano stati smembrati i saperi e come sia stato tutto ridotto a piccolo mangime da dare agli studenti. università. Ebbene, la più grande riflessione sulla scuola ce l'ha dato un grande maestro di pedagogia, Jean-Jacques Rousseau. Sapete cosa scrive Rousseau nelle 1000? Siamo nel 1762. Vi leggo questa frase. Mi azzarderò qui a esporre la più grande, la più importante regola di tutta l'educazione non è di guadagnare tempo, ma di perderlo. Perdere tempo significa ricordare la radice della scuola. Noi abbiamo dimenticato che dal punto di vista etimologico la scuola, scolè dal greco, cosa significa? Significa lozium latino, significa occuparsi di un tempo che io dedico a me, di un tempo che io dedico alla mia conoscenza, di un tempo libero da qualsiasi forma di utilitarismo. Noi invece abbiamo trasformato la scuola nel più alto condensato di utilitarismo. E quindi questo fa appugni con la radice etimologica di questa parola. Contrariamente a quando la scuola azienda neoliberista ci vuole far credere, ascoltare un concerto, leggere una poesia, osservare un quadro, non significa perdere tempo, significa guadagnare tempo, significa riappropriarci del nostro tempo, significa rendere più umano il nostro tempo, significa rendere più umana una concezione del tempo legata purtroppo solo al profitto e alla velocità. La logica del profitto e della velocità provoca un cataclisma non solo nel mondo umanistico. E qui io mi ricollego perché nel mio libro citato prima l'utilità dell'inutile ho detto che oggi è finita la guerra tra gli scienziati e gli umanisti. Oggi gli scienziati e gli umanisti devono andare a braccetto per difendere il loro lavoro, per difendere il senso forte di che significa fare ricerca. Nella ricerca scientifica, e io parlo della ricerca scientifica di base, non la ricerca scientifica a gettoni come la vede adesso l'Europa. I grandi finanziamenti in Europa a chi vanno? Io ho letto con i colleghi scienziati come si fa il formulario. Il primo anno che hai scoperto, il secondo anno che cosa hai scoperto, il terzo anno che cosa hai scoperto, il quarto anno come trasferisci le scoperte alla società. E se io ho fatto già tutto, che ricerca è? La ricerca la prima cosa che sappiamo è che noi non sappiamo dove andiamo a finire. Uno dei temi forti della ricerca è la serendipity, cioè che io sto per andare a cercare una cosa e poi ne scopro un'altra. E quindi la ricerca non può essere tutto previsto. La ricerca di base è la ricerca di longue durée, è una ricerca che richiede anni ma che gli stati non finanziano più. Il CERN di Ginevra è un'eccezione, un paradiso terrestre dentro un mondo dove le imprese mettono i soldi e chiedono alle università di produrre un prodotto, un'acqua minerale, una cosa qualsiasi. Ma la scienza può progredire, ma non farà le grandi rivoluzioni. Vi faccio un esempio, un esempio solo, ma ve ne potrei fare cento. Osama Shimomura, premio Nobel per la chimica 2008. Osama Shimomura parte da una domanda, perché la buona ricerca parte sempre da una buona domanda. Si interroga su una cosa che deriva puramente dalla curiosità. Shimomura non si sta chiedendo con questa ricerca quanti soldi guadagno, no. Vuole capire la natura. e allora lavora vent'anni della sua vita per rispondere a una domanda. Qual è la domanda? Perché la medusa che si chiama Equorea Victoria produce una florescenza verde? Oggi se tu fai un progetto di ricerca e scrivi una cosa del genere ti chiudono in un manicomio perché ti pigliano per un pazzo. Dici io ti do milioni di euro per sapere perché c'è la florescenza nella medusa. Ma che cosa può avere? Che importanza può avere? Ebbene, solo degli ignoranti che non sanno di scienza, come molti manager di oggi che gestiscono tutto, non capiscono che la scienza è fatta proprio di cose che all'inizio sembrano inutili. Che fa Osama Shimomura? Dedica vent'anni della sua vita. Poi a un certo punto riesce ad estrarre la proteina di questa florescenza verde che sta nella medusa. E voi sapete che oggi questa proteina, e lui ha avuto il premio Nobel per questo, è un marcatore fondamentale in medicina per esperimenti e tecniche di biologia molecolare. Senza questo marcatore noi non avremmo fatto in alcune malattie, per alcune malattie, dei progressi enormi. Perché quella florescenza ci fa capire quando il cervello si muove in certi momenti e che tipi di reazioni ha. E allora che vuol dire? Che se noi pensiamo di fare ricerca scientifica solo applicando i fatti, i fatti, i fatti di Dickens e applicando l'utile, l'utile, l'utile della produzione e del mercato, noi ammazziamo la scienza. Come ammazziamo le discipline umanistiche, per quello che abbiamo detto. Ebbene, adesso mi viene da dire qual è il combito oggi di un buon professore. Ebbene, il combito di un buon professore è di fare il salmone. Voi sapete cosa fanno i salmone, no? Che ci sono l'acqua che ti porta sotto e tu devi andare sopra controcorrente. È quello di far capire agli studenti che non si va a scuola per prendere un diploma, non ci si iscrive all'università per prendere una laurea. Si va a scuola per imparare, si va a scuola per conoscere, si va a scuola per cercare di diventare migliori. Questa è la funzione principale della scuola. E ancora una volta, perché se parlasse Nuccio Ordine non avrebbe nessun interesse questo discorso, ma ancora una volta io quando parlo ai miei studenti leggo sempre i classici, perché la mia parola non vale niente. Io sono un modesto postino che porta le lettere scritte dai grandi scrittori che dal mondo classico fino ad oggi ci hanno fatto riflettere. Leggo sempre una bellissima poesia Itaca di Cavafis. Costantino Cavafis è un grande poeta greco. In questa poesia riscrive in maniera intelligente il mito di Ulisse. E cosa dice Cavafis ai suoi lettori? Attenzione! Nel viaggio di Ulisse la cosa più importante non era arrivare a Itaca. La meta non era quella. La cosa più importante del viaggio di Ulisse è l'esperienza che Ulisse ha compiuto per andare ad Itaca dal momento in cui è partito al momento in cui arriva. E quando lui è arrivato è già ricco. Prima di arrivare ad Itaca. Vi leggo i versi. Tienila sempre in mente, Itaca. La tua meta è approdare là, ma non far fretta al tuo viaggio. Meglio che duri molti anni e che ormai vecchio attracchi all'isola, ricco di ciò che guadagnasti per la via, senza aspettarti da Itaca ricchezze. Itaca ti ha donato il bel viaggio. Non saresti partito senza di lei. Nulla di più ha da darti. E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso. Sei diventato così esperto e saggio e avrai capito che vuol dire Itaca. È una poesia bellissima che ci fa capire proprio, e io la traduco sempre ai miei ragazzi, la vostra Itaca non è il pezzo di carta che vi vogliono far credere che sia importante. Perché se voi vi prendete il pezzo di carta e non avete saputo viaggiare bene, non avete saputo godere dei momenti di incontri con i vostri compagni nei banchi, con i vostri professori, il dialogo fuori dalla classe, dentro la classe, se voi non sapete tradurre queste cose nell'esperienza della vostra vita, il pezzo di carta non serve a niente, si può buttare. C'è un grande poeta spagnolo, Antonio Maciado, che scrive dei versi meravigliosi, ma ve li voglio leggere in spagnolo. Camminante no hay camino, se hace camino all'andar. Significa che viaggiatore non c'è cammino, il cammino si fa camminando. Perché l'obiettivo nostro non è quello di guadagnare dei soldi, di avere il diploma, l'obiettivo nostro è concentrarsi sul fatto che noi abbiamo una grande occasione con la scuola e l'università e questa occasione è un'occasione formativa ed è nell'esperienza che noi ci formiamo. Ecco perché io sono stato durante il lockdown un feroce avversario di quei rettori che dicevano che bello, la pandemia ci ha fatto capire che ormai il futuro è il futuro dell'insegnamento telematico. Orrore, orrore, orrore. L'insegnamento telematico è stato utile nel momento della necessità ed è bene che le tecnologie ci siano perché io non sono un luddista contro la tecnologia. Però un professore che dice che l'insegnamento vi adatte è un insegnamento che può lasciare qualcosa ai ragazzi quando sappiamo il disastro che in questi due anni ha provocato ai nostri studenti nelle scuole e nelle università. È uno che nell'università e nella scuola non ci ha mai messo piede. È uno che non sa che significa insegnare. Come posso insegnare io davanti a uno schermo anonimo freddo. Quando io quando insegno guardo negli occhi i miei studenti, io mi ricordo i primi anni avevo 300 studenti, adesso ne ho 450 e guardavo negli occhi quelli che potevo guardare. Ma quando vedevo gli studenti all'inizio della mia carriera che guardavano il soffitto, io tornavo a casa la sera e mi chiedevo dove ho sbagliato. Perché guardano il soffitto? E se tu perdi questo contatto umano con loro, se tu non riesci a trasmettere, ma tra poco tornerò su questo tema, è chiaro che poi diventa un grande disastro. Ora rallentare il tempo della produttività significa abbandonarsi all'avventura dell'inatteso, all'avventura della scoperta, all'avventura dell'improbabile che è questa la vera formazione che noi dobbiamo dare ai nostri studenti. Ma vorrei riflettere insieme a voi su un altro punto cruciale. È stato ricordato qui da chi mi ha preceduto la svalutazione e la perdita della dignità dell'insegnamento. Guardate, io sono nato in un piccolo paesino del sud, 40 anni fa, 50 anni fa nel mio paese il professore di liceo era l'autorità più importante del paese. Perché? Perché non si misurava l'autorità sui soldi che uno guadagnava. C'erano anche i ricconi appena arrivati, pieni di soldi, ma erano ignoranti e nel paese quel riccone non valeva nulla, se non in maniera clientelare. Mentre il professore veniva ritenuto l'uomo saggio perché sapeva, perché aveva studiato. C'era un rispetto per la conoscenza. In questa società dove tutto si misura sul condo in banca che noi abbiamo, dove la dignità umana si misura più soldi hai e più sei dignitoso. Ebbene, la scuola e l'università dovrebbero far capire esattamente il contrario ai nostri studenti, ma in questa società i professori non hanno la dignità che meriterebbero. L'ingresso delle nuove tecnologie ha dato il corpo di grazia alla centralità del professore. Perché oggi si pensa che la buona scuola, la scuola moderna, la scuola del futuro, la scuola modello, la fanno i computer, le piattaforme digitali, le aule virtuali. Si usa una parola orribile, scuola 4.0. Una parola orribile. Sapete che significa 4.0? Come nei programmi della Microsoft. Quando arriva il programma Microsoft 5.0 devi buttare dall'1 al 4 che non servono più. 4.0 significa che tutto quello che c'è prima non è buono, è obsoleto, bisogna cestinarlo. Quello che conta è quello che c'è adesso. E' una cosa che nella scuola fa appugni con l'idea di scuola. Noi siamo i garanti del passato e dell'importanza, lo dicevo prima, del passato. Ebbene, nel PNRR è stato sottolineato, sono stati previsti 4.9 miliardi per la scuola digitale. Allora io mi chiedo, no? Cablare le scuole, comprare i computer, mettere tutte le connessioni possibili, veramente può rendere la nostra scuola una scuola migliore? Guardate, io vi parlo di un libro molto serio che ha fatto un'analisi di queste cose, un libro di Adolfo Scotto di Luzio sulla scuola, dove Adolfo Scotto di Luzio, che è un esperto, ha analizzato gli investimenti che in Inghilterra, nel mondo, nell'area britannica, sono stati fatti nelle scuole. Voi sapete, l'Inghilterra, la scuola digitale è cominciata tantissimi decenni prima di noi. Ebbene, sono stati nel Regno Unito investiti centinaia di miliardi di sterline. Di Luzio ha letto le relazioni che sono state fatte dagli ispettori che poi sono andati nelle scuole per cercare di capire che cosa abbiamo ottenuto con questi soldi spesi. Ebbene, che cosa si è capito? Che l'unica cosa sicura di questi soldi spesi è che il digitale ha avuto un impatto straordinario sul volume di affare delle imprese. Questa è stata una cosa sicura, ma nessuno, nessuno degli ispettori, nessuna delle relazioni è riuscita a rispondere alla domanda cruciale. È vero che gli studenti imparano meglio e di più avvalendosi delle risorse multimediali e del materiale didattico online? I resocondi offrono dati quantitativi sulle forniture di strumenti didattici, sulla presenza nei curricula delle tecnologie, sulle connessioni in rete, ma non spiegano gli effetti che la scuola digitale produce sulla mente degli studenti e sulla loro capacità di apprendere veramente. Allora, tutto ciò, senza contare una cosa, perché lo sappiamo tutti, i massicci investimenti che si fanno nel digitale richiedono nel futuro ulteriori massicci investimenti. Perché? Perché proprio con i nostri cellulari, oggi mi compro l'ultimo modello dell'iPhone, sei mesi dopo è obsoleto, perché non girano più le nuove cose che dobbiamo prendere. Allora la scuola diventa un pozzo senza fondo dove tu ogni anno a questi signori dei multimedia devi dare dei nuovi soldi per comprare gli aggiornamenti dei programmi, tenendo presente che adesso tutto si fa, tutta la produzione tecnologica è fatta con un metodo che è l'obsolescenza programmata, cioè l'incompatibilità di quello che viene dopo con quello che viene prima. E quindi significa che tu tutta la vita devi dare soldi a questi qua, all'infinito, e se ti fermi sei fuori. Allora, possiamo pensare che questo sia un metodo giusto in un momento di tesi economica? Perché io dico una cosa, se ci fossero i soldi, e poi dirò se i professori fossero pagati bene, se tutte le cose fossero a posto, facciamola pure questa pazzia. Però in un momento in cui si tagliano i fondi alle scuole e alle università ha un senso investire massicciamente in questa direzione. E allora, quello che io voglio dire è che la vita di uno studente non la cambia un computer, non la cambia una piattaforma digitale, la cambia solo un buon professore. E questa è una verità. Non ci sono altre alternative. Allora, immaginare tanto denaro in un contesto in cui gli stipendi dei professori, è stato ribadito più volte, sono ridicoli, in cui il numero dei professori è insufficiente e costringe a creare delle classi pollaio, perché l'idea di accorpare le classi a cosa è servita? A diminuire il corpo insegnante. Noi dovremmo aumentare il corpo insegnante e fare le classi dove un professore può seguire, nelle scuole private in America e dove hanno sfasciato le scuole di Stato. Se tu vai in una scuola di Stato in un liceo, esci analfabeta totale in America. Però se tu hai i soldi e paghi, vai in una classe con un professore e cinque alunni. Però devi pagare 40 mila euro all'anno per far studiare tuo figlio. È una cosa elitaria. Ebbene, le infrastrutture. C'è un libro dell'ex presidente della conferenza dei rettori, che era lettore dell'Università di Bergamo all'epoca, Stefano Paleari, la guerra non dichiarata, che dimostra lo stato di fatiscienza delle scuole. È uno dei grandi problemi. Noi abbiamo un numero di scuole, lui porta i dati che il Ministero stesso ha offerto, abbiamo un numero di scuole dove questo problema è un problema enorme, un problema gravissimo. E soprattutto dove si spendono i soldi molto male per la cosiddetta formazione. Ritornerò su questo tema più avanti. E dove non c'è un sistema concorsuale chiaro e stabile, che consenta di normalizzare e eliminare il fenomeno del precariato. Allora, di fronte a tutte queste cose qui, gli investimenti massicci che si fanno per il digitale, a cosa servono? Veramente possono trasformare la scuola. C'è un bellissimo discorso che John Kennedy legge nel 18 maggio del 1963 in una università, siamo a Nashville, e lui dice questo. I cinici e gli scettici moderni non vedono nulla di male nel pagare a coloro ai quali affidano le menti dei loro figli uno stipendio inferiore a quello pagato a coloro ai quali affidano la manutenzione del loro impianto idraulico. È un presidente degli Stati Uniti che fa questo discorso. Ed è un discorso ancora oggi di una schiacciante attualità. Ora, c'è un altro paradosso. Se voi vedete i bandi, i bandi che si fanno concorsuali, tu vuoi digitalizzare una biblioteca? Hai tutti i soldi che vuoi. Vuoi digitalizzare i manoscritti di una cosa? Hai tutti i soldi che vuoi. Vuoi digitalizzare le opere d'arte? Ti danno tutti i soldi che vuoi. Ma io mi chiedo, non è una contraddizione in termini una società che ti dice digitalizziamo i manoscritti dell'Ambrosiana di Milano e dopo non formiamo le persone che possono leggere i manoscritti perché gli diciamo che studiare paleografia non serve a niente, studiare filologia non serve a niente. Questa è la contraddizione. Allora significa che dietro queste operazioni sono operazioni commerciali, non sono operazioni culturali, servono ad arricchire l'industria ancora una volta dell'informatica che oggi è diventata il potere numero uno nel mondo. Sono loro che detengono il potere, non contano i politici, non contano niente. Sono loro che comandano e dettano le leggi. Ebbene, io mi chiedo, siamo sicuri che questi finanziamenti fortissimi per il digitale possono essere in accordo con i tagli al budget delle scuole e dell'università, con i tagli alla cultura in generale? Io sono rimasto basito quando ho sentito che per il problema della crisi energetica il sabato si dovevano chiudere le scuole o fare le lezioni online. Solo dei pazzi, dei criminali possono pensare a una cosa del genere. Le scuole vanno mantenute aperte più di tutto perché è lì che noi dobbiamo investire, mentre si pensa che i soldi messi nelle scuole siano soldi buttati a mare, quando invece sono soldi buttati a mare in molti investimenti sul digitale che si fanno che non servono a niente. Ebbene, l'altra domanda che mi pongo, siamo sicuri che gli studenti che sono già intossicati dal digitale, esistono degli studi di psichiatri americani che dicono che gli studenti stanno dieci ore al giorno davanti a un computer, sbanettano continuamente. Io mi trovavo l'altro giorno alla pizzeria dell'università dove mangiavo un'inveloce insalata prima di andare a una riunione. C'erano quattro ragazzi giovani studenti che mangiavano pure loro, ognuno concentrato sul suo portatile e guardava le notizie. Non ho sentito in 35-40 minuti una parola scambiata tra di loro. Ma questa è una cosa che ci dovrebbe preoccupare, è una cosa che dovrebbe essere un grido d'allarme. Allora la scuola, anziché intossicarle ancora di più per dire usiamo il cellulare perché se non usiamo il cellulare gli studenti non sono moderni, sono sciocchezze. Dite a questa gente che sono degli ignoranti chi vi propone queste cose qui. Non è vero, non è vero, non è vero. Perché? Perché bisogna parlare con gli studenti. Io ho una classe, insegno in un anfiteatro a Cosenzo con 350 posti. Il primo giorno di lezione entro in classe, prendo il mio cellulare e lo spengo. Dico ragazzi bisogna spegnere il cellulare in classe, lo dovete fare tutti. Se io sento un cellulare squillare mi sbatto fuori dall'aula. I volti sbiancano, si alza una mano dal fondo, professore ma possiamo tenere il silenzioso? E io dico benissimo, volete tenere il silenzioso? Vi faccio due domande. Quanti cardiologi ci sono qui dentro che devono tenere il silenzioso perché devono andare a salvare una vita in un ospedale? Chi è il cardiologo? Alzate la mano. Poi chiedo quanti pompieri ci sono qui pronti ad andare in caso scatte il fuoco in una foresta o in una cosa ad andare a fare? Nessuno alza la mano. Ebbene, gli studenti non sono sciocchi. Se tu gli fai capire che una cosa è utilizzare uno strumento tecnologico, il che è legittimo. Il cellulare ha salvato la vita a persone che si trovavano in autostrada e hanno avuto un infarto, ha salvato la vita a donne che venivano seguite da persone che volevano aggredirle, scatte il 118. Il cellulare è uno strumento importante, però una cosa è utilizzare il cellulare, un'altra cosa è essere utilizzati dal cellulare. Sono due cose completamente diverse. E allora questo è un gravissimo fenomeno. La tecnologia rende schiavi. Noi dovremmo disintossicare a scuola i nostri studenti. Gli dovremmo insegnare che se tu chiudi il cellulare, voi sapete che esistono delle malattie di disturbo del sonno negli studenti perché anche la notte loro lasciano il telefono acceso e quindi hanno questo bisogno. Se chiudono il telefono è come se gli spegnessimo la vita. Ma allora la scuola che deve fare? Deve continuare a incentivare queste cose o deve far capire agli studenti che esistono delle cose più belle? Quando io chiedo ai miei studenti, certe volte, ragazzi quanti di voi sono su Facebook? Tutte le mani alzate. Allora mi chiedono, mi potete spiegare perché avete un profilo Facebook? Si alza dal fondo la mano. Professore, senza Facebook io non avrei potuto avere 1500 amici. Allora che significa? Che i ragazzi credono oggi nella banalizzazione di questo mondo che l'amicizia è un click, diventiamo amici. Allora cosa faccio io? Io leggo a questi ragazzi una pagina del piccolo principe. Perché il problema qual è? Che tu non puoi dire ai ragazzi sbagliate e basta. Perché è antipedagogico. Perché il ragazzo ti dovrebbe seguire? Li devi mettere con le spalle al muro. Ci devi ragionare, ci devi parlare, devi dedicare tempo a loro. E allora io gli leggo questa pagina del piccolo principe, che è una pagina bellissima. Guardate, io mi arrabbio quando dicono che il piccolo principe è un libro per bambini. Il piccolo principe è un libro per adulti. Perché siamo noi corrotti. I bambini hanno un cuore che possono ancora, come diceva lui, poter vedere con il cuore. Noi non possiamo più vedere con il cuore. L'abbiamo perduta sta d'ora. E allora il piccolo principe arriva, come sapete, sbarca nel deserto del Sahara. È triste, è solo, non conosce nessuno. Viene da un piccolo pianetino grande quanto questo leggo. Dove c'era una rosa e tre vulcani. A un certo punto arriva nel deserto del Sahara, vede un esserino che si muove. Lui non sa manco che cos'è, però è la volpe del deserto. Allora lui sorridendo gli dice, senti, vieni a giocare con me, sono triste. E la volpe dice, no, non posso giocare con te. E lui dice, perché non puoi giocare con me? Perché non sono addomesticata. Sentite quanto è bella questa conversazione. Vieni a giocare con me, le propose il piccolo principe, sono così triste. Non posso giocare con te, disse la volpe, non sono addomesticata. Scusa, fece il piccolo principe. Ma che significa addomesticare? È una cosa molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Creare dei legami, disse il piccolo principe. Certo, disse la volpe. Tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E io non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe è uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo. Io sarò per te unica al mondo. È bellissima questa cosa. Ma che significa? Ma che significa addomesticare? Addomesticare significa dedicare tempo. Significa vedersi. Il principino va il giorno dopo, alla stessa ora, e si parlano a cinque metri, poi va lì, si parlano a quattro metri, poi va lì, si parlano a tre metri. L'amicizia non è un click da casa su Facebook. L'amicizia è un dono di sé continuo all'altro. E se non c'è questo, non si può capire in che maniera si costruisce un'amicizia. Allora, in questo disastro, la lezione frontale è stata vista come un vecchio arnese. Un vecchio arnese obsoleto che deve andare in soffitta. L'idea di parlare ci fanno sentire in colpo quando tu fai una lezione in classe. Perché? Perché i buoni professori, per questi signori, sono quelli che vanno lì, mettono la slide. Voi sapete che noi all'università dobbiamo dire se usiamo i mezzi, io metto sempre, non uso niente, la parola, la parola. E gli studenti sono 350, stanno in silenzio, non volo una mosca nell'aula. Ma è una fatica enorme. Io esco madido di sudore dopo questa lezione. Perché l'altro errore qual è? I professori non devono fondare il proprio prestigio sull'autorità che gli viene dall'essere professore. i professori devono essere autorevoli e l'autorevolezza si conquista. E che vuol dire essere autorevoli? Che le regole le devi rispettare per prima tu. Io nell'aula dell'università sono il primo che entro e l'ultimo che esco. Io non ho mai fatto un giorno di assenza, non ho mai mandato in 32 anni di insegnamento un mio collaboratore a sostituirmi una lezione. Mai. I miei studenti sono sempre lì che sanno che io sono là. 32 anni di insegnamento, non un giorno. Perché uno dice una volta ti hai potuto camminare. Solo una volta, ma avevo la febbre a 41 e non ci potevo andare. Ma ci sono andato anche con la febbre. Ebbene, abbiamo dimenticato che da Socrate, fino a qualche decennio fa, i buoni professori avevano cambiato la vita dei loro studenti. I buoni professori avevano trasmesso ai loro allievi l'amore e la disciplina, l'amore per la disciplina che insegnavano e per il sapere. Ed è per questo, per far capire ai miei studenti ogni anno qual è la missione importante dell'insegnamento. Che leggo una lettera commovente, guardate, la leggo da 30 anni e io ogni volta che la leggo mi commuovo. 1957. Albert Camus, uno dei più grandi scrittori del Novecento, riceve la notizia che ha vinto il premio Nobel. Che potete immaginare? È la più grande soddisfazione che uno scrittore possa avere. Quando lui riceve la notizia, a chi pensa? Due cose. Devo mandare un telegramma a mamma. La mamma di Camus era analfabeta. Devo mandare una lettera al mio professore delle scuole medie di Algeria. Camus era nato da Pien Noir, cioè da francesi che erano andati come coloni in Algeria. Lui non aveva mai conosciuto il papà perché la mamma era incinta. Il papà parte per la prima guerra mondiale e muore. E lui era povero, poverissimo. Viveva con la nonna e la mamma analfabeti. Va a scuola. Questo professore, Louis Germain, di cui noi oggi conosciamo il nome, perché era un signore sconosciuto, perché Camus gli ha mandato questa lettera. Lo vede. Capisce che lui è bravissimo. Quando finisce le scuole gli dice tu devi fare il concorso per il liceo. C'è una borsa di studio. Lui dice ma io non ho i soldi. Mamma e nonna vogliono che vada a lavorare per portare i soldi a casa. No, dice tu devi continuare a studiare. Il bambino va a casa ma nonna e mamma dicono di no. Germain prende la cartellina, prende l'autobus e va a casa di Camus, parla con i genitori e convince la nonna. La nonna dice ma chi lo prepara per fare l'esame? Noi non abbiamo soldi, non vi preoccupate, lo preparo gratis io. D'estate lavorano insieme. Camus fa il concorso, arriva primo. Quel professore ha cambiato la vita di Albert Camus perché ha fatto il liceo e poi l'università. Se fosse andato a lavorare quale sarebbe stato il destino di quel povero bambino? Sentite la lettera. Caro signor Germain, ho aspettato che si spegnesse il baccano che mi ha circondato in tutti questi giorni prima di venire a parlarle con tutto il cuore. Mi hanno fatto un onore davvero troppo grande che non ho né cercato né sollecitato ma quando mi è giunta la notizia il mio primo pensiero dopo che per mia madre è stato per lei, senza di lei, senza quella mano affettuosa che lei tese a quel bambino povero che io ero, senza il suo insegnamento, il suo esempio. Non ci sarebbe stato nulla di tutto questo. Non sopravvaluto questo genere d'onore ma è almeno un'occasione per dirle che cosa lei è stato e continua a essere per me e per assicurarle che i suoi sforzi, il suo lavoro e la sua generosità che lei ci metteva sono sempre vivi in uno dei suoi scolaretti che nonostante l'età non ha cessato di essere il suo riconoscente allievo. L'abbraccio con tutte le mie forze. È una lettera meravigliosa. È una lettera meravigliosa nella quale noi troviamo l'essenza di quello che dovrebbe essere l'insegnamento. Sapete che nella vita di ognuno di noi vi inviterei a chiudere gli occhi. Se noi abbiamo amato qualche disciplina, l'abbiamo amata perché abbiamo trovato un bravo professore che ce l'ha fatta amare e non uno strumento didattico o cose che sono vuote senza la presenza di una umana, di qualcuno che ci sta dietro. I grandi scienziati, leggete le biografie, i grandi scrittori sempre si ricordano di un professore che gli ha cambiato la vita. Nel 2021 Giorgio Parisi ha ricevuto il premio Nobel per la fisica. Nelle prime righe del suo discorso ha ringraziato il suo maestro grande fisico romano, Nicola Cabibbo, per dire che avrebbe meritato più di lui il premio Nobel e non lo aveva avuto e che senza di lui Parisi non sarebbe stato il Parisi che ha ricevuto il premio Nobel. Ma vorrei leggervi qui una piccola cosa di Dante. Dante nella Divina Commedia, lo sapete benissimo, parla del suo maestro e parla nel quindicesimo canto dell'Inferno, incontra Brunetto Latini. Vi leggo i versi di questo incontro. Che in la mente meffitta e ormaccora la cara e buona immagine paterna di voi quando nel mondo ad ora ad ora mi insegnavate come l'uons etterna. L'incontro tra Dante e Latini ha destato moltissime interpretazioni perché sapete che Dante lo pone nel girone dei sodomiti, dei violenti contro natura, ma indipendentemente da questo Dante riconosce la buona figura paterna di Brunetto Latini, di colui che gli ha insegnato come sulla terra, nelle condizioni umane, si conquista la fama o come sulla terra si realizza pienamente la propria umanità. Ebbene, mi avvio verso la conclusione, ogni giorno in un angolo del mondo si compie un piccolo miracolo, in una capanna dell'Africa, in un igloo del polo nord, in una piccola scuola del sud d'Italia. C'è un professore che cambia la vita di uno studente e noi non lo sappiamo, fuori dall'attenzione dei media, fuori dall'attenzione delle telecamere. Ebbene, spendere miliardi per la tecnologia, ma nessuno si preoccupa del prendere cura della formazione dei buoni professori, nessuno difende la loro dignità come abbiamo visto, nessuno difende l'importanza del loro ruolo, nessuno pensa a un sistema di reclutamento efficace con regole chiare. Due parole sulla formazione. Oggi si sprecano tanti soldi sulla formazione a scuola, sempre più legata alla didattica e alla tecnologia. Si parla di un nuovo ente, la scuola di alta formazione per corsi di aggiornamento, dove ancora una volta si invitano agenzie private, si sparpagliano soldi, si pagano anche a professori. Lasciatemelo dire che spesso sono semi-analfabeti, che vengono ad arringare, ad arringare ripetendo cose manualistiche. Ebbene, io ho scritto un pezzo sul Corriere della Sera e anche dei libri per dimostrare che oggi lo studio della didattica ha assunto un ruolo troppo preponderante all'interno di questi corsi di formazione e non è così che si formano gli docenti, perché la prima regola per essere un buon docente è conoscere bene la disciplina che insegni, perché se tu non sai la letteratura italiana può venire il più grande pedagogo del mondo a spiegarti il metodo, sarai un'analfabeta che non sai insegnare con il metodo. Questo è il tema. E allora la conoscenza della disciplina viene prima. E io vi voglio fare un esempio, ho ancora altri dieci minuti per chiudere. Non voglio abusare della vostra pazienza, perché ne sto già abusando abbastanza. Mi invitano in un liceo nella periferia di Napoli, in una periferia molto, Napoli è una città a me molto cara, mi sono cresciuto nell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Gerardo Marotta, chi è di Napoli sa di chi sto parlando, di un grandissimo uomo. Avevo vent'anni quando mi dava le borse di studio e lì mi sono formato. Vado in questo liceo, Gerardo Marotta mi dice devi andare lì, perché lì ci sono camorristi, è una cosa terribile, noi dobbiamo andare a portare la parola dei classici. Io vado in questo liceo, eravamo nell'aula, nella palestra della scuola, il povero dirigente scolastico, il povero preside, poverino, comincia a parlare, c'era un caos terribile, chi giocava, chi faceva, e il preside è abituato forse a questa cosa, continuava a parlare, poi mi passa la parola, io dico, oh, silenzio nell'aula, e dico mi dovete dare due minuti, io vi leggo una cosa, se vi piace continuo, se no me ne vado, perché io non posso fare lezione qui dentro in questa cosa qui, silenzio. Vi leggo una sola ottava, avevo visto che c'erano molte ragazze nell'aula, è un'ottava dell'Orlando Furioso, ho detto io, un poema che da tutti gli studenti viene ritornato noioso, che c'entrano i cavalieri dell'Orlando Furioso con la vita nostra, Rinaldo, Astolfo, che c'entrano? No, ho detto io, adesso vi dimostrerò cosa c'entrano. Rinaldo va in Scozia, vogliono uccidere la figlia del re di Scozia, Ginevra, perché è accusata di tradimento, e Rinaldo dice ma c'è una legge che se l'uomo tradisce viene ucciso? Dice no, non c'è, solo se tradisce la donna. E allora sentite Rinaldo come reagisce, su un medesimo ardor, su un disirpare, in chi ne sforza l'uno e l'altro sesso a quel suave fin d'amor che pare all'ignorante vulgo un grave eccesso, perché si deve punire donna o biasmare che con uno più d'uno abbia commesso quel che l'uomo fa, con quante ne ha appetito e lodato ne va, nonché impunito? Barahonda nella sala. Barahonda. Le donne si alzano in piedi, dicono il professor è vero perché mamma non vuole che io, che sono fidanzata, possa andare a mangiare la pizza con un compagno così innocentemente, perché la gente parla e dice invece mio fratello fidanzato lo può fare, 1516 Orlando Furioso 2015, non mi ricordo quando ci sono andato lì, passati secoli, i problemi sono sempre quelli. Allora quale dovrebbe essere il compito di un professore? Non leggere i manuali, io vi invito a trovare su un manuale andologizzato a quest'ottava, non esiste, i professori si devono leggere i classici e allora che cosa dico? Che anziché far perdere tempo ai professori in riunioni stupide e oziose? Dite a casa, studiate i classici, preparatevi le lezioni, ma è possibile che praticamente i professori devono fare riunioni, i miei studenti mi dicono professore io dalla mattina alla sera dico quando ci possiamo parlare? Ho la riunione con il dirigente per la cosa del dipartimento, io so anche i dipartimenti, ora ci sono pure i dipartimenti nelle scuole, tutte queste cose qui, ore e ore di stupidaggine e cretinaggine anziché stare a casa a leggersi un libro, prepararsi la lezione, questa è la vera cosa che dovrebbero fare i professori, non seguire questa pagliacciata della scuola impresa con i manager che vanno lì e ti spiegano come devi compilare carte, fare cose, perché è tutta burocrazia, i professori non sono burocrati, i presi non sono burocrati, sono insegnanti e la funzione principale dell'insegnante è occuparsi degli studenti, non delle carte per misurare gli studenti, questo è il tema fondamentale. E allora l'altro tema è la libertà di insegnamento, che cosa vogliono fare in questo momento nel mondo italiano? Perché il problema non è italiano, il problema è di tutta Europa, tutto il mondo agisce a quelle tre famose agenzie di banchieri di cui vi ho parlato, lì è il cancro vitale di tutto questo e che praticamente i corsi di formazione a che cosa servono? A creare professori soldatini che dicono tutte le stesse cose, che fanno tutti gli stessi parametri, che ti fanno vedere tutte le stesse cose, ma questa è una follia, qui siamo in un paese dove la Costituzione garantisce la libertà dell'insegnamento e noi la stiamo mettendo sotto i piedi per seguire dei pedagoghi idioti molto spesso, questi che si fissano su queste cose, sono degli idioti prezzolati che guadagnano un mare di soldi per dire sciocchezze. Bene, allora, come fare? L'altro tema è il tema dell'insegnamento a memoria, cioè voi ricordate che quando eravamo ragazzi ci facevano imparare le poesie a memoria, poi sono venuti i pedagoghi dicendo chi impara le poesie a memoria è un ignorante perché non capisce quello che dice, allora io vi posso dire, vi posso dire una cosa, che non c'è cosa più bella a 60 anni di andare in un posto e di ricordarti i versi che tu hai imparato, perché guardate, le cose che noi abbiamo imparato non ce le può strappare nessuno, ti possono levare le macchine, le auto, le case, ma quello che hai imparato tu non te lo leva nessuno e sapete che ce l'ha insegnato questo? Primo Levi, in una lezione bellissima, se questo è un uomo, siamo dentro l'inferno di Auschwitz e che succede? Ci sono gli ebrei espropriati di ogni dignità umana, ricorda Primo Levi, nulla è più nostro, ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli, ci toglieranno anche il nome, Primo Levi era la matricola 174-517, lui la sera che fa? Legge il canto di Ulisse e ricordandolo a memoria perché gli avevano tolto tutto, ma il canto di Ulisse non glielo potevano togliere, lui dava un momento di gioia, un lacerto di vita a cui aggrapparsi dentro questo inferno di Auschwitz e la stessa cosa la ricorda Osip Mandelstam, grandissimo poeta russo, chiuso in un lager e lui racconta in quei giorni in cui io perdevo il senso della vita, recitando a memoria Dante mi sono mantenuto in vita e quindi qui ci dicono che invece non serve a niente imparare queste cose perché? Perché noi siamo la civiltà dell'usegetta, non possiamo tenere la memoria, imparare a memoria è una minaccia per questa società dell'usegetta. Ebbene l'altro tema è la professionalizzazione, adesso corro, la professionalizzazione che significa? Che le scuole devono, tu chiedi a un bambino della scuola media che mestiere vuoi fare da grande, è un atto criminale, è un atto criminale chiedere a un bambino alla terza media che vuoi fare un discorso, ma questo lo dico, non lo dico io, lo dice Albert Einstein che è uno dei più grandi scienziati del mondo, Einstein dice la scuola dovrebbe sempre avere come suo fine che i giovani nescono con personalità armoniose, non ridotti a specialisti, questo secondo me è vero anche per le scuole tecniche i cui studenti si dedicheranno a una ben determinata professione, lo sviluppo dell'attitudine generale a pensare e a giudicare indipendentemente dovrebbe essere al primo posto e non l'acquisizione di conoscenze specializzate, lo dice uno dei grandi scienziati dell'umanità, ma io posso sentire un semianalfabeta pedagogo che mi dice il contrario, allora qual è il tema? L'altro tema è il tema della competizione, si è detto che le scuole se sono in competizione tra di loro funzionano meglio come le aziende, ma non è vero, è un disastro, ho parlato con tanti dirigenti scolastici che mi dicono le competizioni a che cosa ci spingono? A umiliarci ad andare nelle segreterie dei partiti, perché quella scuola lì si vuole pigliare le aule di quella scuola, quindi io devo andare prima di lui per pigliarmi le aule perché avrò più studenti, mi danno più soldi, ma siamo nella follia totale, siamo nella follia totale, non è la competizione che fa crescere la cultura e la ricerca scientifica, è la cooperazione, la collaborazione, guardate gli scienziati cosa ci insegnano su questi temi. E allora Giordano Bruno, voi passate tante ore a preparare test, griglie di valutazioni, parametri per capire chi sta dentro e chi sta fuori, come Greg Green con la bilancia nella tasca che pesava e misurava tutto, che cosa dovremmo fare noi? Viviamo nell'ossessione della misura, viviamo nell'ossessione di arrivare ai primi e facciamo vivere ai nostri ragazzi quest'angoscia e quest'ossessione, che arrivare ai primi significa avere il grande risultato della vita. In un passo della cena delle ceneri Bruno dice non è vero, l'importante non è arrivare ai primi, l'importante è imparare a correre con dignità, sentite questa frase, non è solo degno, non è solo degno d'onore quell'uno che ha meritato il palio, ma anche quello e quell'altro che ha ben corso, che si è giudicato degno e sufficiente dell'aver meritato, benché non l'abbia vinto. Noi dovremmo insegnare ai nostri studenti che la dignità e il correre con dignità vale molto di più, ne abbiamo visti i primi che sono arrivati i primi con imbrogli, con aiuti di politici, con soldi rubati e poi finiti nelle patrie galere. Anziché insegnare la moralità ai nostri studenti, gli insegniamo per arrivare ai primi, fate quello che volete, perché il risultato che conta, sbagliate, non è così. Ebbene, Cervantes con Don Ghisciotti ci insegna una cosa bellissima, quel tenero uomo, cavaliere, difensore di ideali, ci insegna che nella vita esistono delle gloriose sconfitte, che vuol dire? Che anche quando perdiamo, anche quando perdiamo, noi possiamo lasciare un segno fortissimo di noi come Don Ghisciotti, perché? Perché le gloriose sconfitte rivelano la necessità di affrontare con coraggio anche quelle imprese destinate al fallimento. Quante volte persone che si battono per valori, per utopie, per ideali, sono sconfitti, però dopo quante volte Nelson Mandela è stato sconfitto in Sudafrica, però ci ha insegnato un giorno i neri e i bianchi viaggeranno sugli autobus e lui ha vinto. Ancora le cose non sono perfette, però coltivare l'utopia, coltivare le gloriose sconfitte, dire ai giovani se vi sconfiggono non importa, l'importante è che voi siate fedeli ai vostri ideali. Ebbene, invece noi cosa facciamo? Formiamo soldatini assetati di successo e di soldi, soldatini che pensano al proprio egoismo, che anziché pensare alla collaborazione, alla cooperazione, pensano invece a fare soldi. Ebbene, in un saggio del 1803, l'arte di educare, Kant si pone un problema. Qual è la funzione dell'educazione? Essere una cassa di risonanza passiva dei valori della società o invece essere il luogo dove si mettono in crisi i valori dominanti? E ci dice molta chiarezza che è quella la strada da seguire. Noi dobbiamo mettere in crisi i valori dominanti. Se c'è un'ideologia neoliberista che ti dice che la dignità umana si pesa con i soldi, noi dobbiamo far leggere ai nostri studenti quei classici per dire che queste sono menzogne, non sono vere e dobbiamo dargli una moralità molto più forte e non dire preparatevi ad essere consumatori passivi. Ebbene, il compito della scuola non è, come dire, allevare polli di batteria, ma formare eretici. E quando parlo di eretico, parlo nel senso etimologico del termine. Ereticus in latino significa chi sceglie. E che vuol dire? Vuol dire nel senso che io posso scegliere contro corrente, io posso scegliere contro l'idea comune, io posso scegliere contro le idee ufficiali, posso essere quel salmone che risale la corrente nella direzione opposta. Robert Kennedy, che non era certo un rivoluzionario è un dinamitardo in un discorso che fa gli studenti, dice, bellissimo, se i nostri college e le università non allevano gente che lotta, che si ribella, che aggredisce la vita con tutta la visione e il vigore giovanile, allora c'è qualcosa che non va nei nostri college. È esattamente il contrario. Se noi formiamo soldatini uniformati a questa visione del mondo, abbiamo distrutto il futuro dell'educazione. Chiudo. Chiudo perché sono molto convinto che per capire la complessità della vita, per capire la complessità del mondo in cui noi viviamo, non basta solo leggere il PIL. Sempre Robert Kennedy, il 18 marzo del 1968, tiene un discorso in una università dell'Arkansas. Vi leggo che cosa scrive. Troppo e per troppo tempo abbiamo dato l'impressione di riporre l'eccellenza personale e i valori della comunità nella mera accumulazione di beni materiali. Il nostro prodotto interno lordo, PIL, ha superato gli 800 miliardi di dollari l'anno, ma il PIL non calcola la salute dei nostri figli, nella qualità della loro istruzione o la gioia nel loro giocare. Non include la bellezza della nostra poesia, nella forza dei nostri matrimoni, nell'intelligenza del nostro dibattito pubblico, nell'integrità dei nostri funzionari. In breve, il PIL misura qualsiasi cosa, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. E questa è una lezione. Qui chiudo, chiudo dicendo che per noi è necessario fare anche un'autocritica, perché abbiamo, come dire, in alcuni anni io voglio fare anche un'autocritica ai sindacati di quegli anni che promuovevano l'Opeleggis. È vero che il precariato è una cosa terribile e che noi dovremmo bandire ogni anno, come si fa in ogni paese civile, un concorso. Io ho visto miei studenti che si erano laureati a luglio, era uscito il concorso a giugno, hanno dovuto aspettare dieci anni prima di fare il concorso successivo, che è una vergogna immonda. Ed è chiaro che poi tu crei un esercito di persone. Con che motivazione un professore a 50 anni che ancora non sa cosa può fare da grande perché è un precario, può andare in classe e dare il meglio di se stesso. È normale che questo accada. Però noi dobbiamo anche dire e riconoscere che l'altro meccanismo, cioè l'idea dell'Opeleggis, todos caballeros, è un meccanismo negativo che non va, che distrugge la scuola. Perché tra tanti colleghi bravissimi, tra tanti colleghi che sanno fare il loro mestiere, ce ne sono anche alcuni che non lavorano e non lo sanno fare. E noi lo sappiamo. E dire questo ci fa onore. Io parlo anche dei professori universitari, non parlo solo della scuola in generale. E allora come risolvere? Che le regole del recutamento debbano essere chiare. Tale data, tale giorno si fa il concorso, ogni anno. Io so che mi devo laureare se voglio prendere quel treno. Poi fai il concorso il primo anno, lo perdi. Fai il concorso il secondo anno, lo perdi. Fai il concorso il terzo anno, lo perdi. Al quarto anno devi cambiare mestiere. Ma lo sai a 26 anni che non fai più il professore. Non a 50, 60. E questa è l'avverrazione. In Francia il sistema è così. Io conosco i miei colleghi francesi. L'età media dei professori che insegnano in Francia è molto più bassa dell'età media dell'Italia, dove ci sono professori che praticamente vivono ancora il precariato a età che sono alle soglie della pensione. Ebbene, qual è però il tema su cui io vi vorrei invitare a riflettere? Noi non esercitiamo un mestiere. Noi dobbiamo essere coscienti che insegnare non è una professione, ma insegnare è una vocazione. E questo deve essere un punto fermo nella nostra visione del mondo. Cioè io non posso entrare in classe con l'idea che mi devo andare a guadagnare lo stipendio. Perché le due professioni che non possono fare questo sono i medici e gli insegnanti. Perché sono i due pilastri su cui si regge la dignità umana. Il diritto alla salute e il diritto alla conoscenza. Ebbene, qual è la regola per insegnare bene? Lasciateli perdere a tutti questi grandi arringatori dei corsi professionali. Una regola c'è, conoscere la disciplina che si insegna e amarla. Perché se io non la amo, io non potrò trasmettere amore ai miei studenti. Questa è la regola. E anziché perdere tempo appresso a queste cose, leggetevi i classici e cercate di trovare quelle frasi, quei brani che possono suscitare l'interesse dei vostri studenti. Perché se io leggo una cosa a Torino, non è la stessa cosa che posso leggere a Siracusa. Ebbene, nel 1848, Vittorio Hugo tiene un bellissimo discorso. Nell'Assemblea Costituente a Parigi si tagliano i fondi per i musei, i fondi per le biblioteche, i fondi per i centri culturali. Hugo si ribella e dice no, se voi tagliate i fondi voi pregiudicate il futuro della nazione. Perché avremo una nazione di ignoranti, avremo una nazione di analfabeti. Proprio come è successo con quell'umanità che abbiamo visto nell'assalto al Senato in America con le corna sulle teste. Cioè praticamente quel tipo di mondo che è un tipo di mondo che è razzista, fascista, che disprezza praticamente la pluralità. Ebbene, Vittorio Hugo tiene un discorso che oggi andrebbe scolpito in tutti i parlamenti italiani. Vorrei leggervi solo un piccolissimo pezzo di questo discorso e chiudo. Ma se io voglio ardentemente, appassionatamente, il pane per l'operaio, il pane per il lavoratore che è mio fratello, a fianco del pane per la vita voglio il pane del pensiero che è anche il pane della vita. Voglio moltiplicare il pane dello spirito come il pane del corpo. Bisognerebbe moltiplicare le scuole, le cattedre, le biblioteche, i musei, i teatri, le librerie. Bisognerebbe moltiplicare i luoghi di studio per i bambini, i luoghi di lettura per gli uomini, tutte le organizzazioni, tutte le istituzioni in cui si medita, in cui si istruisce, in cui ci si raccoglie, in cui si impara qualcosa, in cui si diventa migliore. Io penso che queste parole di Victor Hugo sono di un'attualità straordinaria, difrando a coloro i quali buttano miliardi per il digitale e poi tagliano continuamente per la cultura e per la scuola. García Lorca fonda una biblioteca, si fonda una biblioteca a Fuente Vaqueros in Spagna, cinque anni prima di essere assassinato dalle milizie fasciste, franchiste, lui va lì e legge un discorso per l'inaugurazione di questa biblioteca. Vi leggo solo la prima frase, non di solo pane vive l'uomo, io se avessi fame e fossi senza forza per la strada non chiederei un pane, ma chiederei mezzo pane e un libro. E questa è una parola magica, libri, libri, che equivale a dire amore, amore, una cosa che i popoli dovrebbero chiedere, come si chiede il pane o come si invoca la pioggia per i loro cambi seminati. E allora, di fronte a questo contesto, mi piace chiudere, ma questa volta veramente, il mio intervento con un dialogo, un dialogo bellissimo di cui ci parla Italo Calvino nelle città invisibili, che è un romanzo straordinario. A un certo punto c'è Kublai Khan, il grande conquistatore, che però non conosce le città che ha conquistato, perché non ha potuto visitarle tutte. E dall'altra parte il grande viaggiatore, Marco Polo, che ha visitato queste città. E allora, alla fine, nelle ultime pagine del romanzo, si parla dell'inferno, ma non dell'inferno di quelli di cui ci parlano i cattolici, dell'inferno dei viventi, cioè dell'inferno di cui noi stessi siamo attori nella vita di tutti i giorni. Sentite quanto è bello. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo noi stessi, stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Io penso che la scuola pubblica, l'università e la cultura siano quel raggio di luce che ci consente di capire nella nostra società ciò che non è inferno, per battere l'inferno. Grazie. 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 Grazie, grazie mille. Grazie, mi fa molto piacere di sentire che c'è una condivisione di questi valori che oggi sono minoritari, veramente minoritari. Grazie. Grazie. Grande segretario. Non ci sono parole per ringraziare il professor Ordine. La testimonianza di quello che ci ha dato sono le persone che stanno piangendo e si sono commosse in prima fila. Ecco, questo è quello che ci ha regalato il professor Ordine oggi. Grazie. E la Guil Scuola, la federazione Guil Scuola Rua è fiera di aver avuto il professor Ordine che è qui ospite al nostro congresso. Io devo dire una cosa, magari darò una scemenza, ma la voglio dire, il professor me lo deve permettere. Io gli ho chiamato, gli ho telefonato, ho telefonato lui parallelamente, dopo di lui avevo comunque contattato un altro ospite che mi dice, posso venire alla vostra conferenza se mi offri di più rispetto a quanto mi offrono a Sondrio lo stesso giorno. Va bene, professore, le faccio sapere, io avevo già parlato con il professor Ordine. Il quale, per dovere lo devo dire, dico, professore, quanto le devo dare? Dice, io questo lavoro non lo faccio per soldi. Io per fare queste cose non prendo soldi. E questo è il professor Ordine. Questo è il Nuccio Ordine. E la Guil Scuola, questa è una mia iniziativa estemporanea, la Guil Scuola regalerà a tutti voi l'utilità dell'inutile che è il libro scritto dal professor Ordine. No, guardate, io, l'avete sentito nella presentazione, da giovane ho cominciato a studiare Giordano Bruno. La prima cosa che ho imparato da Bruno è che il vero filosofo deve essere coerente tra quello che pensa e quello che fa. Cioè la filosofia deve essere una maniera di vivere. Per me insegnare, perciò ho detto che è una vocazione, è la mia vocazione. Io mi pagano, ma se non mi pagassero farei la stessa cosa, perché non posso vivere senza questo. E quindi per me gli intellettuali prezzolati, certo se mi invita una banca mi danno anche 3.000 euro per una conferenza in Ispagna, ma è un altro ragionamento. Io ho fatto centinaia di conferenze nelle scuole, nelle scuole dove mi sono pagato anche le spese per andarci, perché praticamente non avevano manco i soldi, ma perché questo ritengo che faccia parte della nostra missione, se ci crediamo nelle cose che facciamo. Vi abbraccio tutti quanti, grazie. Grazie. Grazie.